Ciao mamma. Buonasera. Questa è per te. Madonna, non c'è? C'è se c'è? Aspetta che ti scatto una foto. A me c'è il film. Vedi mamma, con Carolina ho abbracciato la campagna, adotta una pashmina. C'è se la campagna? Nelle discoteche ogni weekend vengono abbandonate centinaia di pashmina. Ma c'è se la parla? Adotta anche tu una pashmina e vivrai meglio. Ma c'è se la parla? Bene mamma, bisogna far passare il messaggio che la società consumistica ci ha allontanati da ciò che conta davvero. Combattiamo, 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 è importante, è un messaggio importante e ricordatevelo, non abbandonate mai la pashmina. Ehm, sta cos'è a doppia, ti l'entretti che è fate, no? Enjoy, enjoy, enjoy. Sì, ma tu mi sei dato una cosa che hai usato, non è... È un messaggio promozionale, l'ho fatto apposta, ci sono milioni di telespettatori che ci seguono. Dai, mettetelo al collo, funziona mamma, mettetelo al collo. Dai, però, è me che ti taggo il collo? Sì, stai parlando a me, fate, fate, non gli hai questa pashmina. Pashmina, scusa, vai. Fate delle sigarette. Ok. Non gli hai questa inventa? Ti taggo subito, mamma. Hashtag pashmina mom. Ehi, senza la mom, senza la nude. Ti lovo. Ehi, non ti tagga la nude! Lascia di! Non ti taggo di questa cosa. Ma non lo so, ma dove sono tutti? Io non lo so Domenico ti sbrighi? E non vuole... Domenico attraversa, fai presto Ma paura di che? Di che cos'è che hai paura? Come? Che ti investano? Guarda Domenico sei un investimento a perdere, guarda, non lo so Proprio oggi che ci troviamo qui a Poggio Franco Tra l'altro quest'insegno l'ho fatta fare io molto tempo fa Io non lo so, guarda, è incredibile Ma come come fai? Domenico, dai che sono 12 sedie e il tavolo Muoviti, dai fai presto Non ci vuole niente, guarda Ma paura di che? Ancora Muoviti, attraversa Pronto? Fiffi, ciao cara Ma scusa ma dove siete? Io sto qui, sto aspettando voi Ma come dove? Sto qui Dove c'è la scritta Poggio Franco Il nostro habitat naturale, cara E sto aspettando per la cena in bianco Vabbè, va bene, ok, d'accordo Ciao Fiffi, ciao Domenico! Vabbè Investito un domenico se ne fa subito un altro Stiamoci Buongiorno Salve Ho letto l'articolo L'insegna fuori che cercate un commesso E io sono venuto qua perché voglio fare il commesso Eh? Non la tenente? No, non lo fa il servizio di unità Perché serve il servizio di unità? Devo prendere quelli che rubano e li portano a lei? No, ma allora, ci non la tenere Commesso, sì, so fare il commesso Come se uno che sta là e deve vendere le robe Le padrone, le calzette, le scarpe E magari dire, per esempio, questo vestito Compra questo anziché questo qua Perché c'è questo costo di più E quindi all'azienda fa comodo fare questo Eh? Eh sì, quello è più o meno so fare Che amiche Ehi Che faccia anche questo vestito? Niestro Lascia, amiche, si grola La grola C'è, ehi Questo posto non è per te Vatten, vai C'è carica Che mi c'è da Ehi Ci sono che ti calziamo C'è, sono ragazzi C'è, sono ragazzi C'è, stai l'acqua indire a costo Ma l'ho deciso, tu dove è? Eh? Come avete trovato? Avete già trovato uno con me? Eh sì, ho visto che dove? Non ho visto nessuno Dio è che stai Però se dovete fare queste cose qua Togliete quelle scritte, dai Che non mi vuole mettere un bridge Vabbè, va Vabbè A più che minuto, perché se devo fare A più che faccio mettere un bridge E poi la mano Alla questa Grazie Grazie Grazie